18.02, buon giovedì, è il primo agosto! Incredibile ragazzi! Oh ma ci puoi credere Darione? Sì, sì! Ma tu ieri, ieri, avresti mai detto che oggi sarebbe stato il primo agosto? Eh? No, io... Sapete che comunque l'ho realizzato adesso mentre lo leggevo? Cioè non ci avevo ancora pensato oggi al fatto che era già agosto. Io pensavo fosse ancora il 32 luglio, veramente. Abbiamo frasi ovvie ancora per continuare. Sì, salutiamo subito e immediatamente Lodovica Comello, Dario Micolaus in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Ciao Edomecca, ciao al nostro Davidi Energia. Buonasera. E ciao alla nostra Asaia. Buonasera ragazzi.